Ciao amici di YouTube, benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito Aliexpress. Quest'ordine riguarda uno stampo per Madeleine, i dolcetti francesi. L'ordine ha impiegato aggiungere a destinazione 35 giorni, il prezzo pagato è di 2,84$, che sono circa 2,50€. La posta usata è la China Post Small Packet, quindi non tracciabile. Il venditore ha dichiarato che si tratta di home accessori, quindi accessori per la casa, ha dichiarato un valore di 2,79$, poco inferiore al prezzo pagato. Andiamo ad aprire il pacchetto. Stampi in silicone di colore arancione. Sono tre, sei, nove, dodici, quindici formine per Madeleine. Questo è il retro. Qui c'è una macchia. Vabbè, è da lavare. Materiale abbastanza buono. Classico silicone per dolci. Se questo prodotto vi interessa, come al solito, vi lascerò il link nelle informazioni del video qui in basso. Se questo video e il prodotto vi interessano, lasciate un like. E se non siete ancora iscritti al canale, vi consiglio di farlo, in modo da restare sempre aggiornati sui nuovi unboxing che usciranno riguardanti Aliexpress e molti altri siti. Per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo unboxing. iscriviti al canale. Grazie.